Ciao a tutti e benvenuti nel mio Draw My Life. Non è stato facile parlarvi di me ed espormi così tanto, però spero mi perdoniate se tante cose non ve le dirò e spero appreziate quelle che il mio cuore è riuscito a comunicarvi. Bene, sono nata il 26 maggio del 1984, quindi tra due giorni è nuovamente il mio compleanno. I miei genitori si sono conosciuti nel 1983 quando mio papà che lavorava a Lussemburgo rientrava appunto in Sardegna per una breve vacanza e non se n'è più andato perché ha conosciuto mia mamma. Appunto vi sto disegnando la barchetta con la quale è rientrato da Genova fino in Sardegna e qua è rimasto. Io conservo ancora il suo passaporto e per me è un ricordo preziosissimo di quegli anni che ovviamente non ho vissuto ma ero in elaborazione. Si sono appunto innamorati, ecco qua il cuoricino e poi nell'84 sono nata io, sono nata a maggio, un mese che secondo me è bellissimo ed è anche il mese delle rose che io adoro. Come vedete la mia faccina è piagnucolosa perché i miei per oltre sei mesi gli ho fatto passare le pene dell'inferno perché non facevo altro che piangere e li tenevo svegli, come vedete c'è il forcone disegnato. Io ero la gioia dei miei nonni che adesso li sto disegnando, quelli a sinistra sono i miei nonni paterni, la nonna Adalgisa da cui ho preso il nome mentre quella che disegnerò a destra è la mia nonna materna che disegnerò con l'abito nero perché ancora a 90 anni porta il lutto e io non ho mai conosciuto mio nonno materno. Ero la loro gioia nonostante piagessi in continuazione perché ero la prima genita quindi ho preso per tradizione il nome di mia nonna e non so per quale ragione fossero così entusiasti di me, era una piccola peste. A due anni quando ho cominciato a fare i primi passi i miei genitori ed io ci siamo accorti di una cosa che poi ha caratterizzato in maniera negativa la mia infanzia creandomi davvero tantissimi problemi e facendomi sentire inadeguata molte volte. Nel bagno esterno nel giardino mia mamma mi lasciava zampettare ma proprio in quel bagno c'era un piccolo scalino e puntualmente io cadevo là davanti perché non lo vedevo e porto di questo anche un brutto ricordo però una deformazione sulla fronte, un bernoccolo che ormai non se ne andrà più. Fu così che appunto i miei genitori scoprirono che ero nata mio perché avevo bisogno degli occhiali e i miei occhiali non erano roba da poco, erano degli occhiali piuttosto spessi. Questo disegno mi raffigura abbastanza bene, erano degli occhiali spessi che mi facevano sentire davvero inadeguata. All'età di quattro anni sono entrata all'asilo però non ho dei ricordi intensi dell'asilo, non ricordo le amicizie, quelle che si instaurano con gli altri bambini. Io amavo tantissimo disegnare, stavo molto spesso da sola, anche a casa non avevo tantissime amicizie, giocavo con gli animali, giocavo in giardino, avevo dei cani, dei gatti, mia mamma poi in quel periodo aveva i coniglietti, le galline in giro per il giardino che permetteva appunto che ci stessero parecchi animali. Avevo una bicicletta che era una bici da maschiaccio con la quale correvo dappertutto e cadevo facendomi sempre male le ginocchia, però sinceramente di quel periodo in cui mi sentivo inadeguata non ricordo particolari amicizie, particolari rapporti con gli altri bambini. Ecco qua vi sto disegnando le mie ginocchia sempre sbucciate, porto veramente delle cicatrici incredibili, tuttora sono visibili, ero veramente un piccolo maschiazzo. La matematica non è proprio il mio forte, ho scritto il 1986 ma in realtà si tratta del 1987 quando è arrivata la mia sorellina più piccola di me di tre anni Chiara e poi nel 1990 è arrivato il mio fratellino Andrea più piccolo di me di sei anni. Tra loro era amore e amicizia assoluta, mentre purtroppo con me il rapporto era terribile. Io ero più grande, soffrivo questa inadeguatezza dentro di me e non andavo d'accordo assolutamente con nessuno. Quando ho compiuto otto anni è successa una cosa che davvero mi ha cambiato la vita. Già da due anni frequentavo le scuole elementari e come all'asilo ricordo di non avere particolari amicizie, comunque non piacevo tanto ai bambini e io comunque do sempre la colpa al mio aspetto. A otto anni i miei genitori mi propongono di portare le lenti a contatto, probabilmente si erano resi conto del malcontento della situazione che vivevo, che non mi permetteva di relazionarmi con gli altri e questo mi ha cambiato nettamente la vita. Ho cominciato ad avere delle conoscenze, non tanto delle amicizie, forse ne ho portato avanti solo una di quel periodo, però comunque riuscivo a relazionarmi con gli altri bimbi ed era davvero già tantissimo. All'età di 13 anni ho conosciuto, sono stata molto precoce, ho conosciuto quello che poi è stato il mio fidanzato per tantissimi anni, un vero e proprio fidanzato con le presentazioni in casa, tutto molto serio e rigoroso come volevano appunto i miei genitori. Lui aveva 17 anni ma ne stava per compiere 18, era decisamente più grande di me. Ora disegnerò un punto di domanda perché nonostante io abbia passato delle notti a cervellarmi, moltissimi dettagli di quel periodo non sono riuscita a ricordarli o forse li ho voluti rimuovere. Questa sono sempre io, dopo essermi fidanzata sono ingrassata tanto, non si capisce per quale motivo e quel cerchio e la mia pancia sono i dolori e il malessere frequente che sentivo in quel periodo. Solo a 16 anni, quando ormai soffrivo davvero da 3-4 anni, si è scoperto che avevo tantissime ulcere nello stomaco perché ero una ragazzina molto nervosa e ormai era troppo tardi, avevo già una deformazione della valvola duodenale che poi mi ha creato tantissimi problemi. A 19 anni ho terminato comunque il liceo e ho deciso di lavorare. Il lavoro per me era fondamentale, era un obiettivo, qualcosa che volevo assolutamente raggiungere. Dopo tre mesi dal diploma ho trovato lavoro come receptionist ed è stato il mio primo ed il lavoro migliore che ho avuto. Sono riuscita a fare la patente, ho anche acquistato una macchina e in quel periodo avevo un'entrata economica e potevo togliermi davvero tantissime soddisfazioni. Purtroppo il ragazzo con il quale stavo volevo una donna che stesse in casa, che accudisse i bambini, che accudisse la casa e quindi era sempre scontento e questo ci portava a litigare spessissimo. Questo episodio a 20 anni si è concluso. Dopo sei anni e mezzo io ho fatto la svolta e ho deciso di mollare, non ce la facevo più, stavo sempre troppo male e volevo finalmente stare bene e realizzarmi. Questa è la mia faccia felice perché nonostante siano stati sei anni io non ho sofferto nel lasciare questa persona, sembra molto crudele, però in realtà mi faceva soffrire tanto, quindi credo che abbiano sofferto più che altro i miei genitori. Quelli sono stati poi due anni spensierati, quelli che sono seguiti, in cui ho recuperato tutto quello che non avevo fatto in adolescenza, cioè andare in discoteca, divertirmi con gli amici, avere soprattutto degli amici, viaggiare perché il mio ex fidanzato non me lo permetteva. Diciamo che mi sono decisamente ripresa. Nel 2007 questo è il mio lavoro che termina perché nelle mie idee c'era quella di andare finalmente a Londra e vedere un po' come si sta fuori dall'Italia. Questa è la bandiera inglese disegnata veramente malissimo. Infatti nel 2008 sono poi partita per Londra. Sempre nel 2007 ho conosciuto Alex, il mio Momo, quel ragazzo di cui vi parlo in ognuno dei miei video. Lui è senza dubbio l'altra metà della mia mela, la parte esatta di me, quella che mancava e che è sempre mancata. Ho scritto a Milano perché lui inizialmente mi disse che viveva comunque a Milano. Per me era abbastanza difficile immaginare di dover lasciare la Sardegna per sempre. I mesi trascorsi a Londra sono stati lunghi e difficili. La mattina studiavo e la sera lavoravo come cassiera in un ristorante e prendevo le ordinazioni. Sono stati solo sei mesi perché non ho retto oltre, ero sempre sola, avevo il mio amore in Italia e volevo assolutamente rientrare. Questo è l'aereo che mi ha riportato in Sardegna nell'estate del 2008 e ho lavorato come receptionist in una struttura alberghiera. Ma nel 2009 ho trovato lavoro in Lombardia, esattamente a Gallarate, e ho preso nuovamente l'aereo che mi ha allontanato ancora una volta dalla mia amata terra. La Lombardia era senza dubbio più vicina a Piacenza e per me era l'opportunità giusta per poter vedere Ale e per poter stare molto più tempo insieme a lui. Nella scena che disegnero ora è un pezzo del 2008 quando sono rientrata in Sardegna da Londra. Sono venuta a sapere che mio nonno che stava in ospedale non c'era più. Ho sofferto tanto perché non mi era stato detto quando stavo a Londra. Non volevano che io rientrassi per questo motivo. Ho sofferto davvero tantissimo ma tutta la sofferenza di quel periodo si è trasformata poi in rapacificazione con tutti quanti e in amore verso tutti. Quindi se prima non andavo d'accordo con nessuno e portavo ancora avanti quel caratteraccio dell'adolescenza, dopo questo episodio triste io sono davvero cambiata dentro di me. Questa è la fine del 2009 quando ho chiesto ad Ale di andare a vivere insieme perché ero davvero stanchissima di fare avanti e indietro tra Gallarata e Piacenza. Quindi nel 2010 ovviamente lui ha accettato la mia proposta e nel 2010 mi sono trasferita a Piacenza appunto dove ora viviamo insieme. La vita di coppia è davvero bellissima. Io e lui siamo due cuori e una capanna anche se ora come vedrete disegnerò degli animali tra cui un cane, un gatto, una casa col giardino. Questo è sicuramente uno dei miei più grandi desideri da realizzare ancora anche perché per ora stiamo in appartamento ed è matematicamente impossibile che lui mi faccia tenere un animale all'interno dell'appartamento anche perché comunque un animale ha un grosso impegno e io che li ho sempre avuti so che cosa significa costringerli a vivere in un appartamento. Questa vita comunque mi permette di viaggiare molto, di tornare spesso in Sardegna dai miei genitori e questo mi rende comunque felicissima non aver tranciato definitivamente tutti i rapporti con la mia terra natale. Nel 2011 ho scoperto che YouTube oltre a servire per guardare i video musicali può essere anche un'ottima valvola di sfogo. Inizialmente vivevo YouTube da spettatrice guardando tantissimi video di makeup, tantissimi video tutorial ma un bel giorno ho deciso di riprendere me stessa molto incoraggiata da video di tante altre ragazze appena conosciute che si mettevano appunto davanti alla videocamera e parlavano, parlavano, parlavano dei propri prodotti, delle proprie passioni, dei viaggi e quindi dal 2012 data in cui ho caricato il mio primo video ad oggi 2013 YouTube mi è servito tantissimo come valvola di sfogo. Le amicizie che non sono riuscita a trovare in ambiente lavorativo comunque in questa città che a volte non offre tantissimo affetto le ho trovate tramite YouTube e questo mi offre la possibilità di parlare, di scambiarmi delle opinioni, di chiacchierare insomma e di non sentirmi sola appunto quando ho nostalgia di casa e delle amicizie vere che purtroppo quelle reali concrete si trovano ancora in Sardegna. Con il tempo e con le esperienze ho imparato a sentirmi anch'io adeguata e ho raggiunto un equilibrio che ovviamente prima non avevo. Questo è il mio grazie a tutte le persone che ovviamente hanno creduto in me e un ringraziamento speciale va anche a voi che siete dall'altra parte che inconsapevolmente mi siete stati amici, mi siete stati vicino nel momento in cui avevo più bisogno di compagnia e di amicizia. Grazie a tutti per aver guardato questo video e alla prossima, ciao!